Salve a tutti, salve ragazzi. Oggi è il 2 di dicembre, lunedì, è lunedì, è sempre dura attaccare a lavorare, no? Però è una notizia che riguarda gli artigiani. Io parlo stasera dei artigiani, perché mi sono in delegato dell'Associazione Artigiani e ieri ho partecipato, primo dicembre, al Palarottari, bellissimo posto, alla Assemblea Generale dell'Associazione Artigiani. Ci presentiamo con un programma, possono partecipare solo i delegati eletti, non tutti gli artigiani, i delegati eletti e fra categorie, delegati e categorie, delegati comunali, sono 530 persone, perciò in teoria dobbiamo riempire il Palarottari. Noi siamo eletti dal popolo degli artigiani e dobbiamo riempire il Palarottari. Allora, oggi leggo sul giornale che guerra Palarottari pieno, no? L'Assemblea inizia alle 8.30 di mattina, domenica. Quanti erano alle 8.30? 50 persone? Ok. Allora aspettendo, aspettendo, e alle 9.20, praticamente con un'ora in un po' di ritardo, insomma, parte questa Assemblea Generale dei Delegati degli Artigiani. Sono presenti 185 artigiani. All'appello manca quasi 350, cioè, questi è stadi eletti dal popolo degli artigiani e gli andiamo a Spasla domenica, noi a Vignudica, ora i suoi motivi. Però mi ho scritto una letterina ai giornali. La lettera che scrivo ai giornali è che, me lamento, che senza giustificazione, 350 delegati eletti non sono presenti. Può darsi che chi è in alto, il Presidente, il Presidentissimo, abbia qualche responsabilità. O chi che lei, i direttivi dell'Associazione Artigiani, deve farsi un esame di coscienza. Mi appello a quei 350 che voi, se stadi eletti, rappresentate gli artigiani, non vi giustificate, non vi presentate all'Assemblea Generale che ne fa una lan? E questo è un motivo gravissimo. O date le dimissioni o mandate una giustificazione, perché altrimenti non si prendono degli incarichi per rappresentare degli altri nel proprio comune. Si sta a casa o avete preso gli incarichi solo per presentarvi a votare perché dovevate votare qualcuno che vi interessava. È troppo facile. Però a me è meraviglio che neanche dandovi da mangiare gratis si sia venuti, perché una volta, almeno quando se veniva mai era gratis, io veniva, no? Neanche quello. Allora parte questa Assemblea, l'Assemblea Generale in teoria è il dibattito di quello che succede nell'Associazione. È il dibattito di cose che è le lamentele, che sarà qualcuno che si lamenta. E' tutti contenti adesso gli artesani. E' lì chi muore dei fami tra un po', perché i lavori stanno morendo. Però non si vanno all'Assemblea Generale. Allora mi dico, partendo alle 9.20, però nel programma alle 11.40, 11.20 doveva arrivare il Presidente della Provincia Rossi. Allora, dalle 8.30 alle 11.30, sarebbe stata un par de' ore da discutere, perché sarebbe stata tre ore. No? Alle 9.20 partiamo. Un'oretta, un'ora e mezza, perché lei se la roba è il direttore per farne vedere tutti i numeri, i conteggi di questa associazione, e un'altra menada dei 40 minuti, il Presidente, per contarne sempre la stessa roba. No? Prima al maxischermo, i video che l'avvenza visti 50 volte. E allora cos'è rimasto all'Assemblea dei Delegati? 30 minuti. In 30 minuti, con un ragazzino sul palco che doveva tagliarne i tempi se parla in massa, no? Alla fine ha parlato a tre persone, quattro persone. Allora se ne ha di tutti per andare a fare rinfresco, per vedere Rossi. Ma mi è sembrata una farsa incredibile, ed è quella che scrive anche la lettera ai giornali, per andare a guadagnare un po' di fotografie sul giornale da parte del Presidente dell'Associazione Artigiani. Ma è questa l'Associazione Artigiani. E' questi i problemi che avevano. Al Presidente Rossi potevano andare loro tutta la mattina, che l'era meglio. Perché noi non contempo niente. vuol dire che i Delegati gli è nulli, non serve a niente. Soprattutto se è quelli di opposizione, magari come sottoscritto, che dici quel che pensano. Perché a me non fanno la gara a fare la carigota dentro lì. Perché in cada noi, come in dei partiti, è qui che ricopre quattro o cinque cariche e continuano da essere spartiti su un col altro. Allora, qua c'è da farsi un esame di coscienza all'Associazione Artigiani. Dove sono i 350 delegati che mancavano all'Assemblea? Vogliamo avere le giustificazioni di queste persone. E altrimenti che si dimettano. Per rispetto a chi li ha eletti. Scusatemi, questo era un argomento stasera che dovevo affrontare. L'ho fatto in fretta, no gota, da aggiungere altro. Perché non bisogna rendere pubblico, no? Le robe che non funzionano. No, ma sui giornali bisogna parere che tutto funziona. Non è vero. Signori, buonasera. Mi sono sempre quelle delle tre simi della Varedo.